attenzione i dispositivi ed i liquidi utilizzati non contengono nicotina questo canale contiene mie personali opinioni se non siete in grado di farvi una risata vi consiglio di non guardare il video ciao a tutti ragazzi bentornati a un nuovo video del piedinario dello svappo con il suo fido amico brutto in arte morisce leonardi e non viceversa mi raccomando oggi proveremo ak47 mk ultron del santone dello svappo in collaborazione con n'enjoy svappo allora li svapperemo su origin little settati in dual coil punta da un e mezzo 032 5 spire per parte punta da un e mezzo 1 e mezzo con cotone febbre freak e poi lo proveremo anche su pietre volusio rigenerato con 5 spire di 032 cantal su punta da 2 sempre con febbre freak perché febbre freak regna di più non c'è un cazzo da fare perché abbiamo ancora il febbre freak esatto allora partiamo dalla k47 siamo con il foro da un minimod sarà un 1 1 1 e 2 anche lì non mi ricordo quant'è doppio foro a 45 gradi sulla coil svappiamo full meccanico quindi su un reo e su una limelight meccanica free and micidiale scanaway scan for yes free and s faccio vedere una cosa intanto che tu ponderi non so se potete notare il liquido è quasi trasparente una grande novità un tabacco chiaro di sicuro sporca pochissimo adesso noi abbiamo appena rigenerato questa è una coil dalla prima bagnata è pulita adesso lo usiamo un po poi dopo vi facciamo vedere anche a fine della review come sono le coil è abbastanza fittoso sulla lingua ti lascia pizzicorino che ti lascia un tabacco posso sì 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 pizzicorino che ti lascia un tabacco l'unica cosa che può essere sia un pro che un contro è molto delicato ce lo sento più delicato si sente la parte che è un po fumicata allora oggi noi cerchiamo di straniarci da tutto ciò che è il mondo del tabacco che conosciamo gli ultimi tabacchi che abbiamo recensito tutto quanto ma ovviamente per differenziare un po il tipo di prodotto ecco come abbiamo fatto quando abbiamo fatto la review azad non è confrontabile con tabaccheria la review vapor cave non è confrontabile con azad e tabaccheria perché sono processi estrattivi differenti esatto allora non sappiamo il sistema estrattivo utilizzato da enjoy svapo per produrre ak e mk ma si pone così appalato su un concetto come può essere quello di azad sì giusto secondo me sì leggermente sopra a livello di carica aromatica ma non è assolutamente confrontabile con un estratto un estratto a secco come quello di tabaccheria perché è un mondo di gusto totalmente diverso non c'è un buono o un cattivo estrae due cose diverse secondo me partire dal presupposto che uno confronti una marca piuttosto che un'altra senza sapere come è il processo di produzione di lavorazione del tabacco questo vale solo per i tabacchi ovviamente quindi in questo momento noi stiamo parlando di un prodotto preso come abbiamo fatto con la tabaccheria possiamo appoggiarci come come parametri di confronto appunto così la prima mandata prima prima assaporata con azad o comunque sia con un'estrazione di tipo macerazione più come concetto macerato come linea di gusto però ripeto non sappiamo come viene lavorato il tabacco per ak e mk fatto questo cappello allora qui abbiamo fatto due sistemi sempre bf ma che hanno due peculiarità diverse qui siamo un po più caldi lì siamo meno caldi per capire se cambia con la temperatura in che modo cambia quali sono i pregi e difetti sono stati fatti maturare allora hanno uno step di una settimana io consiglio visto che li ho mi sono arrivati nel discorso il negozio li ho presi subito parlato con matteo lui ma ha detto almeno almeno 48 72 ore io gli ho dato lo step dalle 72 ore quindi tre giorni e effettivamente dal che tu prendi a un 20 più 10 quindi mix and vape 20 di aroma di scusatemi di liquido pronto con aroma più concentrato predisposto andare al 30 ml con una base con nicotina parte lo step glielo ho fatto di tre giorni quindi e dall'inizio l'ho provato subito appena messa giù la basetta neutra e dopo i tre giorni cambia effettivamente quindi vi consiglio a prescindere di aspettare almeno tre giorni per svapparlo adesso è una settimana che lì quindi ha una maturazione massima ma mettiamo oltre però già da tre giorni ad oggi non è cambiato questo è un dato che vi do io non potevamo farlo in video ok allora è un buon tabacco da all day è molto ittoso molto molto ittoso lo sento anche lì si è molto ittoso allora qui si sente una nota dolce di fondo corregimi se sbaglio che ricorda quasi un'uva si è leggermente una nota fruttata spicca qui non so se si sente anche sullo speed nello speed lo senti più secco lo senti più buono ok quindi forse si sarà un po la temperatura sarà un po il tipo di eriosità che ci da però adesso proviamo manca fare la prova del 9 mettiamo un single coil sentilo prima qui aspetta che vuole mettere anche single coil qui è più secco adesso è scusate non single coil foro singolo dell'aria quindi è un'aeriosità più chiusa è cambiato quindi è troppa aria lo fa possiamo dire sì ma lì è tutta un'altra cosa chiaro ok qui non è quello che è il dolce non è si identifica meglio come vaniglia qui il vanigliato viene fuori sull'origen col doppio foro si sente solo il dolce sembra un fruttato messo con un singolo foro se lo senti adesso è più vanigliato anche lì non è uno di quei tabacchi che ti riempie subito che ti asfalta è un tabacco da svapo compulsivo mettiamo la cosa cioè tu hai bisogno di svapparti 12 ml di tabacco al giorno questo può fare a caso tuo perché non ti satura il palato è chiaro che se voi svappate sempre tabaccheria e iniziate a svappare questo qui non lo sentite per il primo giorno non lo sentite ma anche per i primi se uno svappa bf fai almeno 2-3 bocce per prima di sentire il sapore ti devi pulire il palato sì sì devi pulirti la bocca al vantaggio secondo me essendo così trasparente che è un atom che oggi mi sono scordato di prendere solo provarlo su un nautilus sul non rigenerabile può dire molto rispetto a un tabacco riprodotto quindi partendo da sì anche perché c'è una campana che è molto piccola quindi senti di più il secco senti di più il tabacoso no ma è anche un concetto che può essere un tabacco per avvicinare le persone che iniziano con la sigletta elettronica hanno un'alternativa che non sia il solito tabacco riprodotto o un tabacco passare direttamente a un tabacco che sporca tanto avendo più gusto questo si pone in una fascia di mezzo secondo me è un prodotto intelligente da quel punto di vista maurizio passiamo adesso allora l'amica posta sì riparti il giro dell'originizio lo stiamo usando in the drip ho ritirato fuori il reo ragazzi giusto per le grandi occasioni il reo era fermo da un pezzo intanto asciugo era fermo da prima dell'apocalisse zombie che hai vissuto quando ti hai servito perché il reo è la box della boccalisse zombie voi non lo sapete ragazzi ma io sono stato dentro un'apocalisse che voi non potete immaginare no mazza non lo sapete nel bagagliare della macchina ha un kit di sopravvivenza posso dirlo sì sì c'è uno zaino dove dentro ha 4,18,6,50 il reo di solito più i vestiti lo speed up due paia di mutanti due paia di calzini perché il reo se ti attaccano gli zombie lo puoi usare sia come arma contundente sia come antistress dopo che hai fatto una carnificia un paio di cuffie per ascoltarmi la musica mi stavo stappando un power bank perché? fammi finire un telo mimetico per creare un rifugio e anche una mia foto una coperta stagna ce l'hai la mia foto? sì no non ce l'ho una coperta stagna una matita perché le matite vanno anche in assenza di gravità non si sa mai un rotolo di scotch e un rotolo di nastro americano questo è il mio kit per apocalisse zombie le cartucce non servono ma sta da baseball questo è il mio kit per apocalisse zombie che ho sempre in macchina comunque sono dimagrito sì sto dimagrendo lo stronzo qui eh eh sono gli occhiali ha smesso di mangiare 45 pasti al giorno fa soltanto i 3 consoni no ne faccio 5 dai vallà bando alle ciance alle swingers mk ultra mi dai la mk ultra per piacere per piacere ricordiamo che storicamente a k è il primo liquido del santone quello un po' più dolce è una miscela di lattacchia si sente che è una miscela di lattacchia con un fondo vanigliato la mk ultra è una miscela di lattacchia nuda e cruda come piace al buon bacchio non è tostissimo nel senso non è anche questo qui è più delicato però si sente che questo qui è un tabacco più tosto più tosto è un tabacco più tosto che hai già drippato te qui vero? eh drippo ancora li devo allegarlo allora si legna eh non soltanto un foro ce ne ha di hit hitosissimo cioè a chi gli piace l'hit questi sono consigliatissimi perché hanno un hit esagerato cosa difficile da trovare in altri tabacchi cioè ha un gusto molto pungente lo swapi proprio ti fa così qui si sente molto di più il flammato si direi che come estrazione qui si capisce qui si capisce meglio anche il tipo di estrazione eh secondo me è un macerato secondo me però mi riservo di di capirlo in futuro però come genere di pastosità di fondo di gusto se lo senti qui lo senti bene che c'è sotto quel dolcino del macerato che lo senti in tutti e due però lì è mascherato nella cappa è mascherato dalla vaniglia mettiamo il dolce perché c'è già del dolce qui che è solo la tacchia lo senti subito lì lo senti molto di più allora qui sparisce la nota dolce quindi possiamo anche definire oggi un confronto che non abbiamo mai fatto tra atom l'origin è un tabacco si italiano vieni a me non ce la possiamo fare dicevo l'origin è un atomizzatore che esalta una nota più dolce tira fuori una dominante dolce dolce e cremosa più che altro si neanche cremosa proprio dolce perché la cappa che è leggermente cremoso veniva fuori dolce e zucchero capito lo speed sappiamo già tutti si sono spesi milioni di complimenti ribadisco che è un atomizzatore molto attuale mi sarebbe piaciuto provarlo su un atom da 14 oggi ma me li sono scordati insieme al Nautilus perché per me svapare con il atom da 14 è sempre la cosa più bella del mondo e dopo lì sono gusti a me piace di più allora qui posso dire che si sente come gamma di gusto un dolce di partenza che sparisce subito dopo una frazione di seconda appena passa la punta della lingua diventa cenere incenso molto delicato sempre un sapore molto delicato guardiamo un attimo anche il colore è chiaro anche questo quindi è una sporca macchina ah ma voglio far vedere alla camera leggermente più scuro come potete notare ma sempre molto chiaro non so se abbiamo un altro tabacco a caso tipo questo qua che ha un tabacco a caso è più scuro è scuro si 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 ma quindi vi dico anche quello che ho nella boccetta è già più scuro non è lo stesso che a sopra tutti quanti quelli che prima dicevano ah però non rigenerabile non li posso svapare adesso lo posso svapare diciamo che con delle coil così dopo una ventina di tiri ti fai tre bocce ti puoi fare tranquillamente tra quattro boccette senza avere l'esigenza di scrostare la resistenza e cambiare il cotone ottimo vantaggio sempre un prodotto dedicato per uno svapatore compulsivo che ha poca voglia di rigenerare rigenerare si accende una freccia in favore del piedinano che si svapa le dita piuttosto che rigenerare si si ma la grande dovevo il liquido di piuttosto esatto cioè sono prodotti che sono fatti bene adesso potergli dare un giudizio in un mondo di tabacchi a cui siamo abituati eeeh festa non ho messo silenzio scusa tranquilli pagherai dopo eh si dicevo dagli un metro di giudizio in una scala dove noi nell'ultimo periodo veniamo da delle review per esempio di tabaccheria mi rifiuto io per primo di metterle a confronto perchè sono prodotti diversi però ripeto su una scala di prodotto consumer meno intenso di soppore come può essere aslan come può essere ci mettevo dentro anche la porkey si gli aromi di enjoy che dobbiamo ancora fare i tabacchi o li abbiamo già fatti con gli aromi di che andremo a fare che sono analoghi su tutti i sistemi che abbiamo provato noi anche come resa questo è molto valido al vantaggio che rispetto a quelli che ho nominato fino adesso non sporca perchè è trasparente non sporca per un cazzo ah quel piccolo difetto dovuto forse alla mix and vape che va allo step di tre giorni ma se avete pazienza tanto chi swappa tabacco ha imparato ad avere pazienza perchè una volta il tabacco buono lo dovevi aspettare sei mesi un anno quindi se adesso siamo abituati al pronto subito quindi facciamo un passo indietro torniamo allo svapo lento tra virgolette yeah ragazzi cos'altro si può dire si può dire un bel si scivola e ci vediamo prossimamente su questo canale seguite il piedinario dello svapo su instagram seguite la bottega del santone che è morisse leonardi su instagram iscrivetevi al mio canale se il video vi è piaciuto mettete mi piace se non vi è piaciuto non mettete mi piace e fatemi fare la dieta da scarfi a scarfi a scarfi a scarfi